Sì, ma dovete andare tutti nello stesso senso, ragazzi. Quindi, tu sei, sei contraria. Sì, però si lamenta poi se ci vai a fine di sopra. Non lo ci vincite. E io non so dove andare. No, no. Se mi aspettate, ne li seguo. Se tu sei più veloce, è tempo che io faccio la curva. Ecco. A forza, figlio. Questa non ci voleva.